Torna a Paternò, la carovana della prevenzione di Comen Italia, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. La tappa paternese patrocinata dalla Comune e organizzata dall'Associazione Città Viva si svolgerà nella giornata del 18 dicembre al centro Un Nonno per Amico di via Alcide dei Gasperi. Intanto questa mattina qui a Piazza della Regione, nella stanza del Sindaco, è stato presentato l'evento. Dopo due anni riproponiamo questa attenzione, devo ringraziare veramente Città Viva e la Presidente, grazie a Scavo per questa sinergia importante che ci traende locale e associazione. Si dice sempre che prevenire è meglio che curare, la nostra amministrazione è attentissima a tutto questo, abbiamo fatto tante cose in atto. Anche l'attenzione che si ha per l'attività fisica degli anziani, ma altre attività sono state svolte e continueremo perché sappiamo quanto è importante. Noi convidiamo sempre di poter collaborare per il bene comune, per dare l'attenzione a chi veramente ha di bisogno. E' inutile ribadire quanto sia importante la prevenzione in campo sanitario. La nostra amministrazione negli ultimi anni è stata sempre molto sensibile a questo evento e anche lunedì 18 saremo presenti assieme all'associazione Città Viva, che per la seconda volta sta organizzando questa bellissima manifestazione rivolta a tutte le donne. La carovana sarà presente purtroppo rispetto a due anni fa che sono stati tre giorni intensi, quest'anno solo in un giorno, siamo presenti dalle 9.30 alle ore 15. Si possono eseguire i seguenti esami, la visita senologica, l'ecografia e la mammografia. E' rivolta a quelle donne di età inferiore ai 40 anni e per le donne over 70. E' chiaro che non è prevista la visita per quelle donne che rientrano nello screening dell'ASPE Sicilia. Due anni fa è stato veramente un grande successo, per successo intento tanta partecipazione da parte delle donne, per cui io dico sempre non abbassiamo mai la guardia per quanto riguarda l'aspetto oncologico dei tumori al seno, anche perché non bisogna farlo soltanto ad ottobre che è il mese della prevenzione e bensì tutto l'anno. E questo è veramente importante e noi siamo contenti di poter offrire questo servizio alla nostra collettività. Le donne che intendono approfittare della carovana della prevenzione per sottoporsi a esami e screening gratuiti dovranno prenotarsi telefonando al numero 347 44 76 738 attivo dalle ore 9 alle ore 12.